L'Europa del XVIII secolo è pervasa, è dominata da un indirizzo di pensiero che è inteso in ogni lingua europea come un pensiero portatore di luce. Appunto questo indirizzo di pensiero in italiano è chiamato illuminismo, in tedesco aufklärung, in inglese enlightenment e così via. Ora, ogni lingua europea identifica l'indirizzo di pensiero predominante del Settecento come un indirizzo di pensiero che ha a che fare con la luce, con i lumi, con il rischiarare. Ma che cosa sono questi lumi? Che cos'è questa luce alla quale ci si rifà quando si parla dell'illuminismo? Ebbene, questa luce è la luce della ragione. L'illuminismo è quell'indirizzo di pensiero che vuole portare la luce della ragione a un numero sempre maggiore di persone. Perché il lume della ragione deve guidare la vita dell'uomo. Ma non di un gruppo ristretto elitario di uomini, bensì di tutti gli uomini, in quanto tutti gli uomini sono razionali. Ogni uomo, anche il più incolto, ha dentro di sé il lume della ragione, che è l'universale che lo accomuna ad ogni altro uomo. Ogni uomo è essenzialmente razionale e dunque ogni uomo ha il diritto e il dovere di esercitare il lume della ragione ponendo la ragione a guida della sua vita. L'illuminismo è proprio quel indirizzo di pensiero che storicamente si dà nel settecento e che ha come obiettivo quello di diffondere il lume della ragione al massimo numero possibile di persone. Cosicché il massimo numero possibile di persone, illuminate dalla luce della ragione, possono mettere la ragione a guida della loro vita. Ora, si potrebbe osservare che non solo la filosofia settecentesca, la filosofia dell'illuminismo, ma in realtà la filosofia in tutto il suo darsi storico, ha avuto come obiettivo quello di cercare razionalmente il vero, cosicché dopo aver trovato razionalmente il vero, la filosofia possa farsi guidare da questo vero razionalmente trovato. E questo vero, e questo vero filosofico è una luce, appunto la luce della ragione che con la sua luce dissipa le tenebre dell'ignoranza, dei pregiudizi. Questa posizione illuminista appunto la ritroviamo già nella filosofia fin dal suo principio. La filosofia ha sempre cercato la luce della ragione, così da dissipare l'errore, il pregiudizio, l'ignoranza, e così da farsi guidare da questa luce della ragione. La stessa parola luce risuona nel termine greco filosofia. Etimologicamente filosofia ha in sé la parola safes, che è appunto chiaro, luminoso. Dunque in realtà si potrebbe dire che tutta la storia della filosofia è storia dell'illuminismo. Non solo nel diciottesimo secolo la filosofia vuol scovare razionalmente il vero, mettendolo a guida della propria vita, così da illuminare le tenebre dell'ignoranza, costruendo grazie a questo vero, luminoso, razionalmente ottenuto un mondo migliore, un mondo praticamente migliore. Ecco, questo in fin dei conti è l'obiettivo di tutta la storia della filosofia e non solo della filosofia settecentesca. Appunto si può dire che la storia della filosofia è storia dell'illuminismo. E l'illuminismo inteso come periodo storico collocato nel diciottesimo secolo è semplicemente un caso particolare di illuminismo. Certo, le tenebre con le quali ha a che fare l'illuminismo settecentesco sono delle tenebre diverse rispetto a quelle con le quali avevano a che fare per esempio i greci. E anche la metodologia che l'illuminismo settecentesco adotta per dissipare queste tenebre dell'ignoranza è storicamente data. I greci dissipano attraverso la luce della ragione le tenebre in un modo diverso rispetto al modo adottato per dissiparle nel settecento. Nel settecento la metodologia adottata dall'illuminismo per combattere l'oscurità dell'ignoranza, dei pregiudizi, è una metodologia che deve moltissimo alla scienza moderna, in particolare alla scienza newtoniana. Ciò ovviamente non accade con la filosofia greca. E tuttavia appunto possiamo vedere come l'illuminismo attraversa tutta la storia della filosofia. E si dà in modo particolare nelle diverse epoche, ma in ogni epoca la filosofia è illuminismo in quanto ricerca attraverso la ragione la luce del vero che deve essere posta a guida della vita dell'uomo, così da dissipare gli errori attraverso appunto la guida della verità incontrovertibile, della ragione, dell'episteme, così da costruire una vita migliore. Ecco, questa storia della filosofia intesa come storia dell'illuminismo viene riconosciuta da Emanuele Severino, ma è stata riconosciuta anche da altri grandi filosofi del Novecento. Per esempio, Orkheimer e Adorno, nella loro celebre dialettica dell'illuminismo, parlano anch'essi dell'illuminismo come fenomeno storico non vincolato al Settecento. Addirittura Orkheimer e Adorno riconoscono le radici dell'illuminismo già in Omero. E così anche un altro grande filosofo del Novecento parla dell'illuminismo in questo senso ampio, non riducibile storicamente al XVIII secolo. E questo filosofo è Michel Foucault che alla fine della sua vita scrive diversi testi sull'illuminismo, riecheggiando in modo molto forte tra l'altro la risposta alla domanda che cos'è l'illuminismo di Immanuel Kant. E anche Foucault, appunto, cerca di estendere l'illuminismo, non vincolandolo alla particolarità storica settecentesca. Ecco, fatta questa premessa, detto appunto che in qualche modo si potrebbe vedere nella storia della filosofia la storia dell'illuminismo. Fatta questa premessa, comunque, in questo contesto parlerò dell'illuminismo riferendomi a quel particolare illuminismo che si dà nel Settecento, nel XVIII secolo. L'illuminismo settecentesco ha una particolarità rispetto alla ricerca della ragione come guida per la vita dell'uomo che si era data precedentemente. Nel Settecento, infatti, questo lume della ragione ha un fine pratico esplicito che mai prima d'ora si era dato. Fine pratico che, appunto, culminerà con un evento effettivo, estremamente dirompente, che è appunto la Rivoluzione Francese. che è proprio figlia di questa riflessione operata dagli illuministi settecenteschi, che hanno come finalità una finalità eminentemente pratica. E in particolare pratico emancipativa. Attraverso la luce della ragione diffusa al maggior numero possibile di persone, proprio in quanto per gli illuministi tutte le persone sono razionali e dunque hanno il diritto di essere illuminate dalla luce della ragione, così da poter mettere la ragione a guida della propria vita. Ebbene, questa ricerca della ragione, questa diffusione dei lumi della ragione, ha la finalità pratica di abbattere i pregiudizi, il fanatismo e l'intolleranza. Pregiudizi, il fanatismo ed l'intolleranza sono infatti le tenebre da dissipare, tenebre da dissipare attraverso i lumi della ragione, tenebre che sono prodotte dall'autorità e dalla tradizione, in particolare dalla autorità e tradizione politica e religiosa. Autorità e tradizione sono i grandi nemici dell'illuminismo. La tradizione, l'autorità, si pone come non suscettibile di critica statica, sclerotizzata, immodificabile. laddove appunto l'illuminismo, proprio per questa sua volontà di continua ricerca e soprattutto diffusione della ragione, ritiene che non ci sia nulla di immodificabile, non ci sia nulla che può imporsi senza essere stato sottoposto al vaglio della critica, cioè il vaglio della ragione. Ecco, l'illuminismo è il grande nemico, il grande antagonista della tradizione e dell'autorità, proprio perché tradizione e autorità ritengono di essere esenti dalla critica. Invece tutto deve essere sottoposto continuamente al vaglio della critica, ossia al vaglio della ragione. Se ciò non accade, appunto, se il popolo, l'opinione pubblica, come si inizia a dire nell'illuminismo, non si fa guidare dalla ragione e dunque accetta passivamente i dettati della autorità, beh, allora in questo caso l'autorità determinerà pregiudizi, intolleranza, fanatismo e dunque mortificherà la natura umana stessa, in quanto mortificherà la ragione e in quanto la natura umana è anzitutto essenzialmente ragione. Ecco, l'intolleranza determinata dall'assenza di critica razionale si sviluppa nel Settecento in un caso emblematico, il famoso affare Jean Calat. In questo caso, appunto, Calat, che era un protestante, viene accusato di avere ucciso il figlio. In realtà questa accusa è assolutamente ingiusta, in quanto il figlio si era ucciso per altre ragioni e il padre non c'entrava nulla, e appunto viene condannato a morte e ucciso. Su questo affare Calat molti illuministi prendono posizione, in particolare Voltaire, che è in qualche misura l'illuminista per eccellenza. Ebbene, Voltaire proprio in risposta a questa intolleranza determinata dalla autorità che non è sottoposta al vaglio della critica, scriverà un testo, il famoso Trattato sulla tolleranza, nel quale prenderà posizione a favore di Calat fino ad ottenere la riabilitazione della memoria di Jean Calat, ingiustamente ucciso, appunto, per mezzo dell'autorità. Riabilitare la memoria di Calat significa criticare l'autorità, dire che l'autorità ha sbagliato, laddove l'autorità, la tradizione, ha per essenza la volontà di non essere mai criticata, e dunque ha per essenza la pretesa di essere infallibile, di non sbagliare mai e di, proprio in quanto infallibile, avere il diritto di rimanere per l'eternità immutabile sulle sue posizioni. Gli illuministi invece dicono no, anche l'autorità e soprattutto l'autorità deve essere continuamente criticata, sottoposta al vaglio critico della ragione, e proprio in quanto criticata va continuamente modificata in risposta alle critiche che l'opinione pubblica dà. Ecco, il caso Jean Calat rappresenta con viva forza qual è il compito autentico che per gli illuministi settecenteschi deve rivestire il filosofo, il compito del filosofo è quello di criticare, di diffondere i lumi anche ai ceti più bassi, così da far sviluppare anche al ceto più basso uno spirito critico. E grazie a questa critica diffusa che guida praticamente l'umanità, gli illuministi vogliono plasmare l'autorità conformandola ai principi della ragione che in modo sempre più incisivo deve guidare tutte le coscienze, anche le più umili. Dunque gli illuministi vogliono diffondere anzitutto spirito critico verso un numero sempre maggiore di uomini e dopo aver fatto questo, proprio grazie a questa critica sempre più numerosa, sempre più consapevole, modificare l'autorità stessa. modificandola, rendendola ovviamente sempre più consonante ai moti della ragione, dei lumi della ragione. E questa ragione, questo lume della ragione, una volta che l'abbiamo scoperto e l'abbiamo messo a guida della nostra vita, ci dirà una cosa fondamentale. Ci dirà che la ragione ha dei limiti, pone dei limiti che non devono essere superati. Se si superano questi limiti si cade nell'errore e si cade in particolare nel fanatismo che è violenza. che determina infelicità. Dunque bisogna conoscere la ragione non solo per sottoporre ogni cosa al vaglio critico, così da trasformarla rendendo la cosa criticata sempre più simile alla ragione stessa. Ma, conoscendo la ragione, si eliminerà anche il fanatismo e la violenza dalla storia. In quanto la ragione sancisce dei limiti, limiti che si ritrovano attraverso l'empirismo e l'esperimento scientifico. Questi sono i due grandi metodi attraverso i quali costruire i limiti posti dalla ragione. Dunque, questi limiti della ragione si costruiscono, potremmo dire, a partire dalla filosofia empirista Locke e Hume e dalla scienza moderna, in particolare Newton, che è appunto uno dei grandi protagonisti dell'illuminismo. Ecco, appunto, seguendo la ragione si individuano questi limiti al di là dei quali non si può andare. Se si va oltre questi limiti, la pena da pagare è appunto il fanatismo, l'intolleranza, il pregiudizio e tutto ciò appunto determina violenza sul prossimo e dunque determina infelicità che si dà storicamente attraverso la violenza, il soppruso, la guerra. Queste sono un po' le istanze fondamentali che muovono gli illuministi settecenteschi. Se volessimo fare alcuni nomi dei principali illuministi del tempo si dovrebbe menzionare sicuramente Voltaire che è un po' l'archetipo dell'illuminista, la figura che meglio forse rappresenta l'illuminista settecentesco. Ma accanto a Voltaire molti altri come Bale, come Montesquieu, come Condorcet, Diderot, Condillac, D'Alembert, Lessing, Mandeville, Smith, Beccaria. tutti questi filosofi illuministi fondano le loro acquisizioni teoretiche sulla filosofia secentesca, Cartesio, Spinoza, Leibniz, Locke, Hume, da un lato, e dall'altro sulla scienza moderna, in particolare Newton. Questi sono i grandi filosofi sui quali si fonda la filosofia elaborata dagli illuministi. E tuttavia bisogna dire che nonostante la filosofia illuminista derivi da questi giganti secenteschi, la filosofia illuminista, la filosofia settecentesca, è una filosofia teoreticamente inferiore, assolutamente inferiore rispetto alla filosofia che si dà nel seicento. Voltaire non potrà mai competere teoreticamente con un Cartesio, con un Locke, con uno Spinoza. Ecco, quindi la filosofia settecentesca riconosce i propri debiti nei confronti di questi giganti secenteschi, ma dall'altro non può competere con questi giganti, non può competere proprio in quanto teoreticamente i risultati filosofici dell'illuminismo sono estremamente inferiori rispetto a quelli posti nel seicento, ma l'intento degli illuministi settecenteschi non è affatto quello di competere con le vette teoretiche poste nel seicento, gli illuministi settecenteschi non vogliono competere con i filosofi del seicento proprio perché il fine dell'illuminismo settecentesco non è un fine teoretico ma è un fine pratico l'illuminismo mira a guidare la vita di tutti gli uomini dopo aver scoperto e diffuso la ragione la ragione in fin dei conti è già stata scoperta nel seicento attraverso l'opposizione di certezza e verità e tutti gli sviluppi che ne conseguono gli illuministi non vogliono tanto scoprire nuove vette razionali non vogliono tanto affinare sviluppare la ragione quanto invece la vogliono diffondere diffondere a tutti gli uomini in quanto tutti gli uomini sono per natura razionali e hanno il diritto dovere di farsi guidare dalla ragione dunque di scoprire la ragione e dunque poi dopo averla scoperta di sottoporre ogni cosa al vaglio critico della ragione ok dunque l'illuminismo non vuole tanto sviluppare la ragione ma invece l'illuminismo deriva la ragione dal seicento per poi diffonderla tra il maggior numero di persone possibile così da consentire i progressi dello spirito umano potremmo dire con condorsè cioè tutti gli uomini devono acquisire la ragione che appunto deve essere diffusa attraverso gli illuministi a tutti gli uomini e questa diffusione della ragione al numero maggiore possibile di persone determinerà progressi dello spirito umano ecco l'idea di progresso del fatto che la società guidata dalla ragione e dalla critica possa progredire e svilupparsi e diventare sempre migliore è una fede che caratterizza in modo vivo il settecento dice condorsè gli illuministi sono quella classe di uomini che non non erano tanto impegnati a scoprire e ad approfondire la verità ecco qui gli illuministi non vogliono tanto dare degli sviluppi qualitativi alla filosofia non vogliono approfondire la verità ma mirano invece continua a condorsè a diffonderla cioè gli illuministi puntano sulla quantità non sulla qualità non vogliono sviluppare la ragione non vogliono cadere in molte sottigliezze in molti particolarismi ma invece vogliono prendere la ragione per diffonderla e così facendo usarla come strumento volto volto a far progredire la società volto a emancipare il maggior numero di persone e appunto continua con dorsè gli illuministi non vogliono far retrocedere i limiti delle conoscenze umane cioè non vogliono modificare i limiti posti dalla ragione seicentesca non vogliono progredire in questo senso ma invece vogliono dice testualmente con dorsè distruggere gli errori popolari distruggere gli errori popolari attraverso appunto la diffusione dei lumi della ragione e diffondere i lumi della ragione significa emancipare il popolo questo fine pratico emancipativo caratteristico della filosofia settecentesca della filosofia illuminista e che porterà ad uno degli eventi epocali della storia dell'umanità cioè appunto la rivoluzione francese sembra avere a prima vista delle molte affinità con la filosofia di carlo marx e in effetti c'è un punto in comune tra la filosofia di marx e la filosofia illuminista l'illuminismo anticipa marx in quanto l'illuminismo pone per la prima volta in modo decisivo l'esigenza di cambiare il mondo attraverso la ragione l'illuminismo non vuole interpretare il mondo ma lo vuole cambiare effettivamente praticamente questa è anche la volontà marxiana esposta come è noto nell'undicesima tesi su Feuerbach e cambiare il mondo attraverso l'esercizio della ragione osservano gli illuministi significa emancipare tutti gli uomini emancipare gli uomini significa diffondere i lumi della ragione e dunque diffondere spirito critico e dunque appunto liberare gli uomini dal dominio assoluto che l'autorità esercita su di loro fin tanto che non sono in possesso della critica razionale la critica invece permette agli uomini di ridurre il potere dell'autorità e dunque dà libertà agli uomini emancipa gli uomini e li rende autonomi per dirla con Kant maggiorenni l'errore dunque rende schiavi la ragione emancipa gli uomini li rende liberi e cambia effettivamente il mondo la ragione non si limita ad interpretare il mondo ma lo vuol cambiare e questo cambiamento consiste anzitutto in una ondata emancipativa che appunto libera gli uomini dai vincoli dell'autorità da loro libertà ecco questo queste affinità tra l'illuminismo da un lato e Marx dall'altro sono tuttavia più che altro apparenti infatti Marx e prima di lui un vero anticipatore di Marx cioè Rousseau il meno illuminista fra tutti gli illuministi andrà a criticare fortemente la ragione illuminista che solo apparentemente è volta ad emancipare tutti gli uomini attraverso la diffusione dei lumi in realtà Rousseau e Marx sottolineano che la ragione illuministica non emancipa affatto gli uomini ma lungi dall'emancipare dell'emancipare gli uomini la ragione illuminista rafforza la borghesia a scapito del resto del popolo a parole l'illuminismo combatte i privilegi diffondendo la libertà ma di fatto conferma questi privilegi che appartengono ad una classe ben limitata di uomini appunto l'illuminismo rafforza e conferma i privilegi della borghesia dunque Rousseau e Marx vanno a criticare la fonte stessa della critica che è l'illuminismo il quale appunto è tuttavia convinto in modo acritico a questo punto potremmo dire di emancipare tutti gli uomini grazie alla diffusione dei lumi della ragione e la ragione per essere diffusa a tutta l'opinione pubblica sarà necessario diffonderla con mezzi non specialistici è ovvio che gli illuministi se vogliono diffondere la ragione alle persone incolte non possono scrivere in modo ultra tecnico o per esempio non possono scrivere in lingue che non pervengono al popolo come per esempio il latino ma dovranno scrivere in modo ironico in modo accattivante dovranno mettere in dubbio nei loro scritti gli illuministi dovranno mettere in dubbio l'autorità la tradizione dovranno mettere in dubbio tutto e tutti attraverso un ragionamento accessibile ad un numero vasto di persone non è un caso dunque che spesso gli illuministi scrivono non trattati filosofici poco accessibili ma scrivono invece romanzi e scrivono in modo estremamente ironico divertente accattivante romanzato un esempio classico di uno scrittore illuminista che appunto oltre che filosofo è scrittore scrittore accattivante scrittore di talento ebbene un esempio di questo è Voltaire il più illuminista tra gli illuministi nato nel 1694 morto nel 1778 ecco Voltaire scrive appunto romanzi accattivanti che possono essere fruiti non solo dalla ristretta cerchia elitaria degli intellettuali ma gli scritti di Voltaire possono circolare presso l'opinione pubblica possono essere fruiti da un numero piuttosto grande di persone tuttavia l'opera di divulgazione fondamentale dell'illuminismo non è l'opera letteraria volteriana ma è invece un'opera divulgativa che viene pubblicata nel corso di una quantità veramente enorme di anni viene pubblicata dal 1751 al 1777 per l'iniziativa principalmente di Diderot e questa grande opera divulgativa è il dizionario ragionato delle scienze delle arti e dei mestieri meglio conosciuto come enciclopedia ecco questo è il grande manifesto per molti aspetti dell'illuminismo l'enciclopedia è scritta da un grandissimo numero di intellettuali illuministi i quali appunto scrivono attraverso una grande serie di voci questa enciclopedia che vuole preparare in modo semplice divulgativo a tutti gli ambiti dello scibile l'enciclopedia proprio per questo suo valore critico e proprio per questa sua volontà divulgativa volontà di diffondere i lumi della ragione presso un numero maggiore possibile di persone è stata combattuta osteggiata in particolare dai jansenisti e dai gesuiti e tuttavia proprio grazie a questa determinazione di diderot l'enciclopedia riesce a uscire e ad imporsi con la forza dei 33 volumi che la costituiscono alcuni sono volumi illustrati alcuni sono invece volumi appunto scritti leggiamo a tal proposito alcuni passi tratti dal discorso preliminare all'enciclopedia scritto da d'Alembert d'Alembert era un matematico che curò moltissime voci dell'enciclopedia infatti spesso e volentieri d'Alembert è ricordato assieme a d'Iderot come il protagonista fondamentale di questa monumentale opera leggiamo dunque alcuni passi tratti da il seguente test non si può disconoscere che proprio ai dizionari si debbano almeno in parte i lumi che si sono ampiamente diffusi nella società ecco qui fin dall'inizio d'Alembert mostra il suo intento fondamentale che è l'intento dell'illumismo quello di diffondere i lumi presso la società presso l'opinione direbbe Voltaire e qual è il modo migliore per diffondere questi lumi beh dice d'Alembert il modo migliore per diffondere i lumi è appunto scrivere un dizionario scrivere un'enciclopedia che introduca anche il lettore meno colto alla totalità dello scibile così da permettere lo sviluppo nel lettore di uno spiccato senso critico e dunque sarà necessario scrivere un dizionario anzi sarà necessario scrivere un gigantesco dizionario per giungere a questo scopo ed è proprio quello appunto che ci si propone di fare scrivendo l'enciclopedia e continua d'Alembert questo tipo di collezioni possono al massimo servire a introdurre qualche lume nell'animo di coloro che abbandonati a se stessi e privati di un simile aiuto non avrebbero avuto il coraggio di procurarselo ecco qui l'enciclopedia non vuole essere un testo specialistico ma vuole invece diffondere del materiale che introduca in modo generale alle diverse questioni ma questi lumi non potranno mai sostituire i libri per coloro che vogliono effettivamente istruirsi per la loro stessa forma i dizionari servono solo per la consultazione e non si prestano a una lettura organica ecco i dizionari non non mirano allo specialismo accademici ma mirano invece a far germogliare spirito critico nei più che non sanno nulla e che dunque troveranno molte nozioni per quanto siano nozioni di base in questi dizionari si renderebbero ancora più efficaci questi mezzi riducendo in pochi volumi tutto ciò che fino ad oggi gli uomini hanno scoperto nel campo delle scienze e delle arti e forse un simile progetto che comprendesse anche i fatti storici realmente utili non sarebbe impossibile realizzare potremmo così liberarci di tanti libri i cui autori non hanno fatto che copiarsi gli uni con gli altri ecco qui è chiara l'invettiva anti-accademic il pubblico al quale mira l'enciclopedia non è affatto un pubblico accademico ultra specialistico arroccato nei suoi specialismi che spesso volentieri non portano a nulla dice qui d'Alembert il pubblico al quale è destinato l'enciclopedia è invece il pubblico che deve ancora formarsi spirito critico e che dunque per formarselo deve acculturarsi ma deve partire da nozioni di base e i dizionari danno appunto nozioni di base sulle diverse questioni non sono dei testi specialistici e questo è un punto a favore dei dizionari dice d'Alembert che appunto qui mostra una vena spiccatamente anti-accademica anti-specialistica e continuo appunto ribadendo ciò che abbiamo detto finora da quante letture inutili saremmo liberati se vi fossero dei buoni estratti ecco liberiamoci dallo specialismo lo specialismo non aiuta affatto a sviluppare spirito critico abbiamo dunque ritenuto opportuno avere un dizionario che si potesse consultare su tutte le materie delle arti e delle scienze e che servisse a guidare coloro che dedicano la loro vita ad educare gli altri come a illuminare coloro che vogliono istruirsi da se stessi ecco qui bisogna illuminare gli altri bisogna diffondere i lumi della ragione far sviluppare al popolo spirito critico così che il popolo possa emanciparsi dall'autorità attraverso la critica attraverso la ragione che deve guidare l'uomo in quanto l'uomo per natura è razionale e qui si può osservare anche che la diffusione dei lumi ciò che permette spirito autocritico sono tanto le arti quanto le scienze la scienza moderna è un punto fondamentale che non può essere eluso l'illuminismo si appella tanto alla filosofia secentesca quanto alla scienza sperimentale in particolare alla scienza newtoniana la più comune esperienza è lì a dimostrarci quanto già sia difficile per un solo autore trattare profondamente la scienza o l'arte al cui studio ha dedicato tutta la vita quale uomo può essere tanto ardito e tanto ottuso da voler trattare da solo tutte le scienze e le arti ne abbiamo concluso che per sostenere un peso come quello cui ci subbarcavamo era necessario suddividerlo e immediatamente ci siamo rivolti numerosi dotti e artisti ecco qui D'Alembert dice non pensate che questa enciclopedia sia stata redatta da una sola persona ma invece ci sono moltissime persone che si sono impegnate a scrivere le molte voci che la costituiscono ogni voce sarà scritta da uno specialista del settore ma sarà scritta non in modo specialistico ma in modo appunto divulgativo nessuno ha invaso il campo altrui o si è occupato di cose che forse non ha mai saputo crediamo di aver avuto ottimi motivi per seguire in questa opera l'ordine alfabetico ecco qui si dice che le voci dell'enciclopedia stanno in ordine alfabetico così da rendere facile la consultazione un tale ordine ci è sembrato più comodo e più facile per i nostri lettori i quali volendo informarsi sul significato di un termine potranno trovarlo più facilmente in un dizionario alfabetico che non in qualsiasi altro ecco qui c'è proprio la volontà di chiarezza la volontà di istruire il lettore e quindi di far sviluppare in esso spirito critico nel modo più agevole più comodo possibile tutta la materia dell'enciclopedia può ridursi a tre parti fondamentali le scienze le arti liberali e le arti meccaniche gli articoli concernenti gli elementi delle scienze sono stati elaborati con tutta la cura possibile ma neppure le parti riguardanti le arti meccaniche richiedeva minore ampiezza e minori cure non si è scritto quasi nulla sulle arti meccaniche finora ecco qui anche questa è una cosa molto molto interessante non abbiamo solo le arti e le scienze in questa enciclopedia ma in questa enciclopedia si trovano anche le arti meccaniche che in questa enciclopedia hanno un peso equivalente alle scienze e alle arti liberali gli illuministi e in questo sono estremamente innovatori danno un grandissimo peso alle arti meccaniche in passato qui osserva D'Alembert si è data troppa poca importanza alle arti meccaniche mentre l'illuminismo considera le arti meccaniche alla stregua delle arti liberali e della scienza questo è dovuto anche al fatto che l'illuminismo vuole arrivare dappertutto non si vuole limitare ad una classe intellettuale che mai ha fatto lavori manuali si vuole invece arrivare a tutte le persone dunque anche alle persone che fanno lavori umili lavori manuali anch'essi proprio perché tutti gli uomini sono razionali anch'essi sono razionali e dunque anch'essi devono istruirsi sviluppare spirito critico così da controllare criticare e modificare in conformità della ragione l'autorità anche chi lavora con le mani deve uscire dalla minorità questo è il punto che preme agli illuministi e poi continua ad Alambert ci si è rivolti agli artigiani più abili di Parigi e di tutto il regno e ci si è presa la briga di andare nelle loro officine di interrogarli di scrivere solo sotto dettatura di sviluppare i loro pensieri di annotare i termini propri delle varie professioni di conversare con tutti quelli che ci avevano consegnato memorie scritte eccetera eccetera alcuni artigiani sono anche persone colte e potremmo anche farne il nome ma il loro numero sarebbe estremamente esiguo la maggior parte di coloro che esercitano le arti meccaniche sono stati spinti ad abbracciarle dalla necessità e operano solo per istinto fra mille a stento se ne potrebbero trovare una dozzina in grado di esprimersi con una certa chiarezza sugli utensili da loro impiegati o sulle opere da loro fabbricate abbiamo visto operai che lavoravano da 40 anni ignorando tutto sulle loro macchine come loro è stato necessario esercitare quella funzione di cui si vantava Socrate cioè la faticosa e delicata funzione di far partorire gli animi ecco qui ma possono partorire pensieri anche questi individui incolti anzi devono è un loro diritto dovere di diventare razionali anche le persone incolte devono maturare spirito critico devono farsi illuminare dalla ragione e per farsi illuminare dalla ragione come osservava Kant nella risposta la domanda che cos'è l'illuminismo bisogna volerlo bisogna avere coraggio in quanto spesso stare nell'oscurità nell'ombra del dubbio dell'errore è più comodo ma vi sono mestieri così particolari che se non ci si applicano i stessi al lavoro se non si muove una macchina con le nostre mani e se non si vede l'opera formarsi sotto i nostri occhi è difficile parlarne con precisione spesso è stato quindi necessario procurarsi le macchine costruirle e porre mano personalmente all'opera divenire per così dire apprendista e fare delle cattive opere per insegnare agli altri come si fanno quelle buone ecco qui molto interessante viene detto è vero che il popolo ignorante deve istruirsi ma allo stesso modo l'elite intellettuale deve sporcarsi le mani perché non è affatto indegno il lavoro manuale qui viene fatto un autentico elogio del lavoro manuale la mancanza di abitudine a scrivere e a leggere opere sulle arti rende difficile spiegare le cose in modo comprensibile di qui la necessità delle figure ecco qui per rendere agevole lo studio e l'apprendimento lo sviluppo critico razionale si mettono non solo tutte le voci in ordine alfabetico ma si mettono anche delle figure disegnatori sono stati inviati nelle officine sono stati presi schizzi sulle varie macchine e degli utensili non è certo nei libri che si può imparare a lavorare continua d'Alembert esaltando ancora il lavoro manuale e concludiamo questo discorso preliminare che in realtà è molto più lungo io ho estratto solo delle parti con questo passo da tutto quello che abbiamo detto risulta che nell'opera qui annunciata le scienze e le arti sono state trattate in modo da non presupporre alcuna conoscenza preliminare ecco qui di nuovo non specialismo ma volontà di diffondere al maggior numero di persone nozioni di base di ciascun argomento vi è infatti esposto ciò che è importante sapere e gli articoli si spiegano gli uni con gli altri in modo che la difficoltà della nomenclatura non presenti mai un serio ostacolo nonostante tutti questi importanti intenti divulgativi l'enciclopedia non poteva vantare un grande numero di abbonati infatti gli abbonati all'enciclopedia erano solamente 4.000 ed erano una minoranza illuminata costituita da liberi professionisti imprenditori quindi in qualche modo borghesi ma anche nobili emancipati ebbene questa minoranza illuminata era quella elite intellettuale sulla quale gli illuministi volevano fare leva per diffondere attraverso questa minoranza illuminata la ragione i lumi all'opinione pubblica così da trasformarla in un'opinione finalmente critica l'opinione pubblica infatti nel settecento non aveva ancora spirito critico e ciò era dimostrato anzitutto dal fatto che l'opinione pubblica era ancora un'opinione fortemente ancorata ai valori religiosi in particolare ai valori del cristianesimo cioè ai valori dell'autorità si doveva invece svincolare questa opinione dalla autorità dalla tradizione in particolare dalla tradizione religiosa così da costruire un'opinione pubblica cosciente consapevole di sé in grado finalmente di trasformare in modo positivo la società attraverso l'esercizio razionale della critica gli illuministi vedono infatti nell'opinione pubblica lo strumento principe per mutare la società rendendola più libera più tollerante meno violenta cioè migliore è infatti l'opinione pubblica che permette in modo incisivo il cambiamento della società ma solamente se questa opinione pubblica è consapevole di sé cioè ha spirito critico cioè ha assimilato quei lumi che l'illuminismo si impegna di diffondere a tal proposito Voltaire dice l'opinione fa tutto l'opinione governa il mondo e questa opinione appunto non è il contrario della ragione non è un discorso senza fondamenti razionali ma l'opinione appunto l'insieme delle persone è l'opinione pubblica è l'opinione pubblica che fa tutto che governa il mondo dunque bisognerà trasformare l'opinione pubblica bisognerà far prendere coscienza di sé all'opinione pubblica se si vuole trasformare in senso razionale il mondo determinando dunque dei progressi dello spirito umano i filosofi illuministi dunque attraverso la diffusione dei lumi del lume della ragione deve conformare l'opinione pubblica alla ragione nel momento in cui l'opinione pubblica è conformata alla ragione eserciterà una critica nei confronti della società del mondo in qualche modo conformando a sua volta il mondo alla ragione stessa trasformando il mondo in un mondo più tollerante meno violento libero da pregiudizi l'opinione pubblica trasformando il mondo criticherà l'autorità e la tradizione proprio attraverso la critica razionale consapevole dell'autorità e della tradizione si potrà cambiare il mondo la ragione va a criticare implacabilmente l'autorità il pregiudizio l'errore e qual è l'autorità per eccellenza sulla quale si concentra primariamente anche Kant nella sua risposta alla domanda che cos'è l'illuminismo beh l'autorità per eccellenza è la religione o meglio tutte le religioni storiche le religioni che si danno storicamente le religioni dogmatiche certo la filosofia moderna sin dai suoi inizi si è emancipata dalla religione se durante il medioevo la filosofia era ancella della teologia con la modernità fin dai primi passi che la filosofia compie nella modernità si libera da questo errore di considerarsi come subordinata alla religione alla fede e alla teologia ma solamente nell'illuminismo la ragione emancipata dalla teologia riconduce la fede a pregiudizio intolleranza fonte di schiavitù mancata emancipazione tradizione che imponendosi nega la ragione e conduce nella minorità solamente l'illuminismo non solo rivendica il fatto che la filosofia non è ancella della teologia ma rivendica il fatto per la prima volta che la fede è pregiudizio da eliminare attraverso il lume della ragione dunque l'illuminismo si pone per la prima volta in forte contrasto con la fede intesa appunto come tradizione per eccellenza tradizione da eliminare in quanto contraria alla ragione ai lumi della ragione propugnati dagli illuministi certo si potrebbe dire già la riforma protestante si era messa in forte contrasto con la autorità della chiesa ma la riforma protestante si vuole emancipare dall'autorità della chiesa stando entro la fede stando nella fede l'illuminismo invece si vuole emancipare dalla autorità della chiesa stando fuori dalla fede cioè si vuole emancipare in qualche modo dalla fede stessa dalla fede nel momento in cui si dà dogmaticamente in quanto il dogma per essenza è immodificabile cioè pretende di non essere toccato dalla critica ed è per questo che l'illuminismo critica le religioni storiche in quanto le religioni storiche sono dogmatiche e pretendono che i loro dogmi non possano essere messi in discussione l'illuminismo è contrario a tutto ciò ma non è contrario alla religione in quanto tale è contrario invece alle religioni dogmatiche che si danno storicamente per questa ragione la maggior parte degli illuministi non faranno professione di ateismo non andranno a negare l'esistenza di Dio faranno invece professione principalmente di deismo il deismo che si dà principalmente in Inghilterra e che ha come massimi rappresentanti David Hume del quale già conosciamo la filosofia ma anche Tolland Clark Butler Tyndall e molti altri deisti inglesi appunto che in quanto deisti criticano i dogmi della religione cioè criticano le religioni rivelate ma abbracciano comunque una forma di religione appunto non una religiosità dogmatica rivelata ma una religiosità naturale cioè una religione che si limita a considerare e ad affermare il rapporto naturale che si instaura tra l'uomo e Dio ma si ferma a questo rapporto andando a negare qualsiasi sovrastruttura dogmatica che pretende di essere rivelata e in quanto rivelata inconfutabile immutabile non soggetta a dubbio non soggetta a critica laddove per gli illuministi tutto deve essere sottoposto a critica un esempio di deismo lo troviamo nello stesso Polter il quale da un lato critica alcuni dogmi fondamentali della religione proprio in quanto dogmi proprio in quanto non soggetti a critica per esempio Voltaire critica spinozianamente il fatto che Dio possa punire gli uomini e dunque critica il fatto che la religione ponga in modo del tutto dogmatico un Dio antropomorfizzato in qualche modo ma dall'altro da deista Voltaire è interessato ad affermare alcuni principi fondamentali della religione principi non dogmatici ma principi che invece stanno in accordo con la religione si ritrovano attraverso l'esercizio della ragione stessa Voltaire dunque da un lato afferma l'esistenza di Dio in quanto in accordo con la ragione mentre elimina tutte quelle sovrastrutture arbitrarie dogmatiche che vengono poste in modo arbitrario non razionale Voltaire tra l'altro mette in accordo i tratti fondamentali della religione con la ragione attraverso l'uso di una metafisica assolutamente tradizionale Voltaire dice da un lato Dio esiste in quanto nulla si produce dal nulla ma visto che qualcosa c'è noi siamo circondati da cose particolari e transeunti dunque ci deve necessariamente essere Dio che garantisce l'esistenza di questi particolari se Dio non ci fosse proprio in quanto nulla si produce dal nulla anche questi particolari transeunti non ci sarebbero se ci fossero solo i particolari transeunti si andrebbe a negare l'origine di questi particolari divenienti questa origine invece deve essere affermata è appunto l'eterno è Dio che c'è è assicurato dal principio metafisico assolutamente tradizionale per il quale nulla si produce dal nulla un altro argomento che Voltaire aduce in modo assolutamente tradizionale per dimostrare l'esistenza di Dio è un argomento teleologico potremmo dire cioè Voltaire dice le cose sono munite di mezzi che permettono loro di tendere ad un fine ma i fini devono essere ricondotti ad un fine ultimo che è appunto Dio ecco attraverso dunque queste argomentazioni assolutamente tradizionali Voltaire pone un accordo tra la religione e la ragione ma proprio in virtù di questo accordo elimina tutte quelle componenti non razionali bensì dogmatiche ed arbitrarie che invece spesso e volentieri le religioni storiche rivelate accollano impropriamente alla religione un altro filosofo illuminista che si occupa molto dell'accordo tra ragione e religione è l'illuminista tedesco Lessing il quale come un po' tutta la filosofia tedesca del settecento è profondamente influenzata dal pensiero di Leibniz a tal proposito nel parlare delle verità religiose Lessing attraverso una terminologia leibniziana dice che le verità religiose sono verità di fatto le verità di fatto per Leibniz sono quelle verità il cui opposto non è una contraddizione quindi sono verità non necessarie potremmo dire ecco le verità religione sono verità di fatto dice Lessing e le verità di fatto cioè le verità religiose che sono un esempio di verità di fatto non sono il fondamento di verità che hanno a che fare con Dio dice Lessing proprio perché Dio è l'eterno necessario incontrovertibile mentre le verità di fatto sono contingenti non sono necessarie attraverso questa argomentazione dunque Lessing critica tutte quelle verità religiose che vengono poste arbitrariamente dalle religioni rivelate ma che in realtà non sono legittimate a interagire con Dio in quanto non sono fondate necessariamente non sono appunto verità di ragione allo stesso modo Lessing critica tutti quegli eventi particolari che si danno storicamente e che alcune religioni elevano a eventi necessari che appunto si danno necessariamente in quanto stanno in rapporto con Dio per esempio dice Lessing il fatto che Cristo è risorto ma il fatto che Cristo è risorto è un evento particolare che si dà storicamente dunque in quanto si dà storicamente è accidentale non necessario dunque è illegittimo prendere questo evento storico Cristo è risorto e porlo come evento necessario in quanto stai rapporto con Dio questo non si può farlo Dio può essere descritto solo attraverso alcuni ragionamenti razionali che stanno a priori e che non si danno storicamente ciò che si dà storicamente è sempre arbitrario dunque dice Lessing le religioni le religioni storiche dottrinali rivelate non stanno in rapporto con Dio in quanto non stanno in rapporto con la ragione bisogna invece spogliare la religione della dottrina così da ritrovare un nocciolo razionale nella religione e solo questo deve essere accettato nonostante ciò tuttavia osserva Lessing le religioni storiche dottrinali anche se non razionali anticipano le acquisizioni della ragione in particolare il cristianesimo che ad avviso di Lessing è la forma più alta di religione storica è destinato a diventare verità di ragione pur non essendolo in un primo momento in quanto ragione dottrinale è comunque ciò che anticipa che ha già in sé il germe della verità di ragione e questa posizione di Lessing è già anticipatrice della posizione hegeliana il cristianesimo non è ragione ma anticipa già a esso stesso la ragione concludo questa presentazione dell'illuminismo leggendo la definizione di filosofo che l'enciclopedia dà dice l'enciclopedia filosofo non vi è cosa oggi che si possa acquistare con minore spesa dell'addomea di filosofo una vita oscura e ritirata qualche mostra di saggezza e un po' di lettura bastano per attirare il nome di filosofo a persone che finiscono per onorarsene senza merito ma bisogna avere un'idea più giusta di che cos'è un filosofo e noi ne vogliamo offrire qui la caratterizzazione la ragione è per il filosofo quello che la grazia è per il cristiano il cristiano è determinato ad agire dalla grazia il filosofo dalla ragione gli altri uomini sono trascinati dalle loro passioni senza che le azioni che compiono siano precedute dalla riflessione sono uomini che camminano nelle tenebre mentre il filosofo anche nelle passioni agisce solo dopo aver ben riflettuto cammina nella notte ma c'è una fiaccola ecco qui la luce della ragione che lo precede la verità non è per il filosofo un amante che gli corrompa l'immaginazione e che gli creda di trovare dappertutto il filosofo si concentra di farla emergere là dove gli riesce di scorgerla non la confonde con la verosimiglianza prende per vero il vero per falso il falso per dubbio incerto quel che è dubbio incerto per verosimile quel che non è altro che verosimile fa anche di più ed è questa una grande perfezione dell'atteggiamento filosofico quando non ha motivi sufficienti per giudicare sa sospendere il giudizio il mondo è pieno di persone di spirito e anche di molto spirito che giudicano sempre e sempre tirano a indovinare perché è tirare a indovinare dare giudizi senza prima interrogarsi e rendersi conto che si possiede o no un adeguato criterio di giudizio il filosofo crede invece che l'intelligenza consista nel giudicare bene è più contento di sé in certi casi quando ha sospeso la sua facoltà di giudizio e cioè sempre qualora si sia reso conto di non possedere un criterio adeguato alla decisione ecco qui lo spirito critico del filosofo fa sì che quando il filosofo non sa giudicare se una cosa è effettivamente vero non oltrepassa i limiti della ragione e sospende il giudizio comunemente si intende per spirito proprio questa facoltà di operare vivaci e improvvisi collegamenti di idee tuttavia tale qualità è quella meno ricercata dal filosofo che preferisce al brillio delle frasi l'attenta distinzione delle idee la conoscenza precisa delle loro estensioni e dei loro legami e la capacità di non lasciarsi abbagliare da somiglianze e rapporti superficiali lo spirito filosofico è dunque uno spirito di osservazione e precisione che riporta tutto ai suoi veri principi qui si può osservare chiaramente la il legame tra l'operare del filosofo descritto dagli illuministi e i principi cartesiani e newtoniani ma il filosofo non si limita ad affinare in questo modo il proprio giudizio il nostro filosofo non si crede in esilio in questo mondo né crede di vivere in un paese nemico vuole godere saggiamente dei beni che la natura gli offre vuole ricavare piacere dalla compagnia degli altri e così cerca di andare d'accordo con quelli con cui il caso o la sua scelta lo fanno vivere e trova nel medesimo tempo ciò che gli conviene ecco il filosofo non deve stare in una torre d'avorio ma proprio perché la filosofia per l'illuminismo è essenzialmente pratica deve appunto trasformare il mondo secondo la famosa tesi su Feuerbach marxiana ed è per questo il filosofo deve stare in stretto contatto con la società non può appunto vivere fuori dal mondo e conclude la voce appunto dell'Encyclopedia è un galantuomo che vuol piacere e rendersi utile la società civile è quasi per lui come una divinità in terra la incensa e la onora con la probità con la scrupolosa osservanza dei suoi doveri e con il desiderio sincero di non essere un membro inutile e fuori posto i sentimenti di probità entrano in quella che vogliamo dire la costituzione meccanica del filosofo tanto quanto i lumi dell'intelligenza